Buongiorno, come state? Allora, io vi sto preparando e tra poco farò una call con una mia sposa e ho pensato di registrarvi questo video. Perché? Perché spesso si fa confusione dal ruolo da braga stylist abbinato alle wedding planner. Spesso noi collaboriamo insieme e posso dire che queste due figure professionali insieme funzionano benissimo e quindi non c'è nessun tipo di rivalità assolutamente tra di noi. Abbiamo due ruoli completamente diversi. Ma adesso passo a voi, le mie spose. Allora, cosa facciamo durante la call? Andiamo a vedere ogni piccolo dettaglio del vostro abito, del vostro look, della vostra preparazione, che è la cosa più importante. Quindi nella prima call e nel primo incontro io faccio con le mie spose, andrò a chiedere alla sposa dove ha scelto l'abito, se mancano degli accessori che possono essere per i capelli, orecchini, collane, buchette, scarpe, in modo poi di accompagnarla nella scelta degli accessori mancanti. Dove aver parlato di accessori, di abito, tutto quello che serve alla sposa per completare il suo look, il suo abito, il suo stile, vado a chiedere qualche informazione in più sul giorno della preparazione, quindi l'assistenza al giorno delle nozze. Quindi chi è il truccatore, chi è il parrucchiere, chi è il fotografo, in quale villa, in quale cerimonia, servita civile o rito religioso, qual è la question che ovviamente andrà poi a utilizzare per festeggiare il suo matrimonio. Chi saranno gli accompagnatori o l'accompagnatore, se ci sono dammigelle, paggetti, se bisogna fare un coordinamento per l'ingresso alla cerimonia. Quindi vi spiegherò un pochino come funzionerà tutta la parte della preparazione in location o a casa della sposa, di cosa mi occuperò io, se poi anche la sposa sarà disposta a affiancarsi totalmente al mio servizio. Cosa significa? Ci sono spose che richiedono la mia consulenza, la mia assistenza al giorno delle nozze per un supporto a chi poi le vestirà. Altre spose invece decidono di affidarsi completamente a me e quindi sarò io a vestire da testa a piedi la sposa. E poi magari se ci sono lì delle persone care con loro, andranno fatte delle foto un po' di rito che si fanno solitamente, quindi come si abbottona un bottoncino, come magari mettere un orecchino, un braccialetto, una collana, un qualcosa, un dettaglio, video e foto per ricordare insomma quel momento. Quindi sarà esattamente la sposa a decidere qual è il tipo di servizio che vuole al suo fianco. Adesso, passata la preparazione, ovviamente spiegherò che la sposa non sarà mai abbandonata, sarò io a aiutare la sposa ad entrare in macchina, quindi sistemare il suo velo, sistemare il suo bouquet, sistemare la sua coda, il suo abito, tutto. E poi ci incontreremo, sarò io andare con la sposa in base un pochino anche alle distanze tra location e cerimonia, andare in macchina con la sposa oppure io prenderò ogni macchina e andrò poi alla cerimonia e sarò lì ad aspettare la sposa. Quindi io mi coordinerò anche con l'autista della sposa in modo che fotografo, io, wedding planner nel caso in cui ci fosse, siamo pronti ad aspettare la sposa per la cerimonia. Aiuterò alla sposa all'uscire dalla macchina, coordinerò paggetto e damigelle lì dove ci fossero e poi tutta navata verso l'altare, anche se è rito civile. E poi sarò lì di supporto per tutta la cerimonia per sistemare coda, velo, tutto quello che serve alla sposa. Sarò lì per lei. specifico sempre alle mie spose, nei momenti importanti, che può essere lo scambio delle fedi, che può essere la promessa, che può essere altri momenti della cerimonia, non stiamo lì a vedere come sta la coda, come sta il velo, assolutamente no. Io sono lì di supporto sempre con lei, sempre in coordinamento con il fotografo e con il videomaker, in modo che tutto sia sempre immortalato nel modo giusto. Quindi state tranquille, state serene. Io resto lì fino alla fine della cerimonia. Poi ci sono spose che decidono di far sassistere anche durante gli scatti fotografici, per avere il suo abito o la sua goda sempre impeccabile, ma possono essere anche un piccolo ritocco, un rossetto, sei lucida, mettiamo un po' di cipria, togli e metti il velo, attido al bouquet, faccio il cambio di scarpe, per poi arrivare fino alla parte finale del matrimonio, che è quello della torta. Quindi anche lì, se c'è un cambio d'abito e serve un supporto, ci sono io. Bisogna sciogliere i capelli? Ci sono io. Non sono una make-partis, non sono una parrucchiera, ma ho molta manualità. Non vado a sostituire queste due figure importantissime per la sposa, ma posso essere un supporto. Qualsiasi cosa scrivetemi e così magari vi do altre informazioni. Vi auguro buona giornata.